Era mio amico Federico, ma da oggi un po', bravissimo. Però ditemi se non è vero che nel bilancio quota ammortamento non compare mai dove c'è Roberto Cipresso, è vero, anche gli altri, è vero, però è così, la filosofia va sposata fino in fondo. Grazie, però è vero che quando si parte con dei progetti veri, con degli obiettivi ambiziosi legati a questa parola magica che si chiama Terwar, purtroppo se ci fanno troppi conti ci si ferma a metà strada.